Si va a Verona, la tua ex squadra, che partita ti aspetti? Una partita come tutte le altre è difficile, è una squadra forte, però penso che abbiamo le nostre chance e dobbiamo prenderle. Sicuro sarà difficile, ma sarà una bella partita di pallavolo, penso. Verona che è cresciuta nelle ultime partite, è arrivata al quarto posto dopo la vittoria contro Castellana, quindi incontrerete una squadra in forma? Sì, sì, è una squadra equilibrata, io ne ho giocato due anni, penso che sia una grande squadra, quindi ancora una volta sarà difficile, ma ancora una volta possiamo fare qualcosa e speriamo di farlo. A Verona hai detto bene, hai giocato due anni, è la squadra che ti ha introdotto nella Superlega, è la squadra in cui seppur tu non abbia giocato da titolare, comunque ti ha dato la possibilità di farti conoscere alla grande pallavolo. Cosa ti porti dietro da quei due anni? Tantissime cose, che sono sul campo ma anche fuori dal campo, come atleto ma anche come umano, quindi io voglio ringraziare questa società per i due anni che ho avuto, però adesso sono dietro e non avrò pensieri per loro durante la partita. Io ringrazio per quello, però adesso la vita va via, la vita va avanti. Come sta la tono callipo dopo la partita contro Trento, una partita per Salta Ibrecht, ci credete? Credete nella possibilità di risalire la classifica? Sì, penso che noi ci stiamo lavorando bene, quindi speriamo di avere risultati perché i risultati alla fine sono una conseguenza, quindi stiamo continuando a lavorare duro e speriamo che i risultati arriveranno nel futuro. Verona è un'altra scienza a farlo, non sarà l'ultima e non è che se vinciamo siamo campioni del mondo, non è che se perdiamo non siamo alcuni del mondo, quindi vediamo. Grazie, grazie a François Lasca e in bocca al lupo per la partita di Verona. Grazie a voi.